Floriano Barone, il Comitato Aria Nuova promuove una petizione popolare per l'installazione di autovelox. Perché questa petizione? Beh, prima di tutto perché qualunque cittadino vuole tornare a casa in colume dopo aver vissuto la città di Torre del Greco. Non lo stiamo scoprendo adesso che ormai gli automobilisti e anche chi va sulle due ruote non rispetta assolutamente le regole della strada. Sempre più spesso si stiamo ad incidenti o a persone che si fanno male seriamente. Si tratta un attimino di darsi una calmata su questa cosa e poter provvedere. Esistono le leggi, bisogna soltanto intervenire. Da chi è formato questo nuovo comitato? È un comitato che è formato da, prima di tutto, persone che hanno a cuore la situazione. È sollecitato anche da una serie di commercianti di via nazionale che hanno voluto fermamente dare luogo a questa petizione. Come state raccogliendo queste firme? Allora, abbiamo creato un profilo Facebook che si chiama Aria Nuova. Siamo anche online su change.org. Quindi la petizione è sottoscrivibile sia online che sul cartaceo, scaricando i moduli che abbiamo messo a disposizione sul profilo Facebook. E poi a chi sarà destinata? Al sindaco o all'amministrazione comunale? Noi ci rivolgiamo direttamente al sindaco che in primis speriamo si faccia carico di questa richiesta di noi cittadini e contribuenti e ci venga incontro. Insomma, diciamo, l'unica soluzione è installare degli autovelox perché io mi sono trovato a parlare anche con persone che ignorano completamente l'esistenza di limiti di velocità in città. Non sanno che bisogna non andare oltre i 40 km orari, anzi addirittura in luoghi in cui ci sono scuole o sono altrimenti frequentati da pedoni bisogna anche scendere i 30 km orari. Quindi o rifacciamo un'educazione che da come vedo si comportano gli automobilisti in questa città è perfettamente inutile o installiamo gli autovelox 24 ore su 24 e la sanzione farà da maestra a questo punto. Nel 2023 qui a Torre del Greco si tornerà alle urne. I cittadini che cosa vogliono chiedere ai futuri candidati? E questo neocomitato che si è appena costituito ha anche delle velletà politiche? Assolutamente no. Non siamo in cerca di voti né in cerca di pubblicità. Noi siamo qui per lavorare sul territorio. Io personalmente mi sono impegnato, chi mi conosce lo sa di cosa mi sto occupando ultimamente, facciamo la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata. Siamo riusciti a migliorare un servizio, ora cerchiamo di migliorare qualunque cosa possibile in questa realtà locale. Quello che a noi sta a cuore è semplicemente soltanto il territorio e la vivibilità di questo posto, nient'altro. Noi siamo in questo posto, nient'altro.